Ciao ragazzi, ciao ragazze, top! Benvenuti in un nuovo video all bellerrimo, ovvero cura, cura, cura della persona per essere più bellil, già lo sono così, senza solo cura, non sono bella, sono bella belluccia, vabbè. E comunque, senza falsa modestia, ovviamente, comunque sto facendo tipo il mio bottino per poi iniziare a utilizzare le cose e per rispondere alla vostra domanda se ho già iniziato a usare i prodotti di Sloader, no, non ho ancora iniziato perché voglio iniziare quando ho tutta una serie di cose, come dico io, e così posso iniziare. E infatti ho qui una cosa che mi serviva perché serve molto. Questo ordine l'ho fatto su Douglas, quindi questo è un haul Douglas all'insegna della bellezza. Bene, allora, iniziamo. Come prima cosa vi faccio vedere che ho preso, non fateci caso questo mio telefono, si sto ricevendo un sacco di messaggi ma è normale l'amministrazione. Questo qui, di Essence, ho preso il Lush Princess, questo verde questa volta perché io ho preso quello viola e poi prendevo quello rosa. Quello verde mi pare che non l'ho mai provato, forse non mi ricordo, non lo so. Comunque ho preso questo, a sto giro, questo qua verde perché l'ho sentito parlare molto bene e quindi l'ho preso. Poi ho preso, faccio delle cose così, poi faccio delle cose più così. Questi qui della Ferragni, su Douglas che ci sono ancora, non c'è la nuova collezione, però queste io le volevo perché non le ho prese quando erano uscite l'altra volta. Sono due matite eyeliner, una marrone e una nera, infatti sono la 01 e la 02. Ve le faccio vedere velocemente. In sottofondo c'è Yumi che piange perché vuole ciucciare, sapete che lei ciuccia, si mette sul tessuto, fa ciucciarini perché pensa di bere il latte dalla mamma gatta. E vabbè, allora, Yumi adesso arrivo! Allora questa è quella nera e così praticamente esce in questo modo. Vediamo la scrivenza, pazzesca ragazzi, bellissima. Comunque questi sono della casa Lancome, questi prodotti. Poi la marrone perché secondo me non bisogna mettere sempre la matita nera, ma anche quella marrone che ti va a esaltare di più il colore del tuo colore, vabbè, il colore del tuo occhio naturale, insomma. E appunto questa è la 02, questo è Talking Eyes. Occhi che parlano. Comunque guardate così, anche questa è come l'altra. Vi faccio vedere. Bella la scrivenza. Tra l'altro nel nero ci sono dei glitter in quella nera. Non so se si percepisce, si vedete, che sbrillucica un pochettino quella nera. Carina. Belle, queste sono da mettere quella nera, sicuramente sopra fare così, mentre quella marrone da mettere sotto, secondo me, da fare un po' una cosa così. Questi li metto qua, questi li butto perché non mi servono. Poi, vabbè, ho avuto questo campioncino di Gisada, ambassadora for women, la donna. Questo qua, sentiamo com'è questo campioncino così, questo lo buttiamo. Sentiamo. Sì, dai, non è male? No, è buono. Forse bisogna lasciare un attimino a girare così. Non so perché. Poi, ho preso lui, assolutamente, di Dior. Ho preso Dior Addict Lip Maximizer, cioè praticamente è un lip gloss tipo rimpolpante di Dior. E questo è il numero 010, hollow pink. E ve lo faccio vedere immediatamente. Mettiamo. Tra l'altro il packaging è bellissimo. Ho scritto Dior così. Qua c'è CD, Chiara Davide. Oppure Chiara D'Alessandro, no, Chiara Davide. E appunto, questo è un gloss. C'è un profumo buonissimo. C'è un profumo buonissimo, veramente. veramente, ragazzi, dà l'effetto labbra più... E poi con tutti questi glitter. Immaginate con sotto un rossetto messo con la matita. No, ma anche così è bellissimo. Ha tipo la sensazione di mentolo. Cioè lo sento fresco, sento che agisce sulle labbra. Adoro. Cioè, adoro. Infatti tutto super, super shimmer. Adoro. Non ti dà la sensazione di pizzicore. Ti dà la sensazione come se l'hai messo qualcosa al mentolo sulle labbra. Cioè, questa sensazione di freschezza. Bello. Adoro. Poi ho preso questo. Che era un po' che lo guardavo. Questo qua è della marca Gesche. È lo Kitty. È praticamente Sonic Facial Brush. È un pulitore per la faccia. Ho detto proprio in parole povere, povere. Pro Level. Cleansing Facial Facial. Vabbè, Firming. Comunque si apre così. Magnetico. C'ha tutta l'app, tutto quanto. Che bello. Vabbè. Ah. Si deve aprire così. Ma io adoro. Carino. E si presenta in sci. Aspettate. Vabbè. Che bello. Praticamente questa parte qua voi è andata a pulire tutta la faccia. Adesso non so come. Qui si accende. E qua. Comunque si dovrà caricare in qualche modo. O è tramite app, credo. Sì. Cioè. È proprio. Smart app guide skin care revolution. Insomma qua. E ovviamente poi seguirò le cose. Qua sotto c'è chito Sario. Poi ovviamente così c'è bellissimo. E qui. Come vedete. Poi qua c'è il più. Il meno. Questo forse è il tasso di ascensione. Ossio l'ho acceso. Non so se si percepisce. Vibra tutto. Vediamo. Facciamo più. Si sente? No ma intanto c'è guardate qua. Pazzesco. C'è il pedrico. Dunque non ho questo colore in faccia. Queste macchie così. Perché se lo utilizzano il telefono di mio marito. Che fa dei colori di. E. Niente. Vabbè. Adoro. C'è questa pulizia profonda. Sospengo. C'è top. Top. Dove lo yeah. Bene. E. Non vedevo l'ora appunto di. Di averlo per utilizzarlo. Così poi. Quando faccio. Che lo uso. Quando. Lo utilizzo insieme. Al detergente di. S. Loader. E poi. Mi metto la crema. Mi metto il siero. Ecco. Adesso. Diciamo che ho tutto un kit. Abbastanza completo. No. Senza l'abbastanza. E questo. Comunque. La sua scatolina. Così. Vediamo. Poi. 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 Questo. Allora. Non me lo ricordo. Se questo. È una cosa che ho comprato. O se è un campioncino. Non me lo ricordo. Veramente. Non mi pare. Penso che sia un campioncino. Chiamarlo campioncino. Sta cosa gigante. Allora. Io ho già sbirciato. Però. Non mi pare. Proprio di averlo comprato. È un campioncino. Credo. Allora. Abbiamo. I Salorant. E Lancome. Ci sono due profumi. Più. Una pochette. Allora. No. Aspettate. Qua abbiamo. Idole. Idol. Idol. Forse. Di Lancome. 5 ml. Vediamo. Sì. Che bello. È un profumo. Ragazzi. Pazzesco. Cioè. Tra l'altro. Posso. Iniziare a fare anche la collezione. Di profumini. Cioè. Adoro. Questo è. Idol. Di. Di Lancome. Idol. Aura. E questo invece. Libre. Di Issa Loran. Che è sempre. Eau de parfum. E questo è. Eau de parfum. Luminoso. Vabbè. Comunque. Anche questo profumo merita. Che bella. Sta confezione. Ragazzi. Ma. Che bella. Che è. Adoro. Ma. Adoro. Questo lip. Top. Questo profumino. Adoro. Pazzesco. Wow. Cioè. Così. Lo posso usare. Si apre proprio così. Questo è giusto per la collezione. Ragazzi. Troppo bello. Bello pelluccio. Veramente. E poi. Non è finita. Ottivamente. Con campioncini. Ragazzi. Ci sono andando a nozze. C'è anche tipo. Sta pergamena. Con un cuore. Vediamo. Che cosa è. Non ho capito. Vediamo. Allora. Amare. Non è guardarsi l'un l'altro. Ma guardare insieme. Nella stessa direzione. Antoine de Saint. Ex-Pour Paris. Carina sta cosa. Che caruccia. Veramente. Che bella. Questa me la tengo. Ci metto il cuore qua. Ecco. Che caruccia. Bella velluta. E poi abbiamo. Questa. Che è una pochette. Che hanno diviso in due. Di Mugler. Non so se è Tommy Mugler. O Mugler. Non lo so. Queste pronunce. Non ditemi niente. Perché. Non le pronuncio di solito. Ma c'è anche il. No. Vabbè. È fux. Io adoro. Ah. Ecco qua. Mugler. Questa c'è anche la dust bag per la pochette. Ma vabbè. Se guardate qua. Mugler. Bella. Ci sta l'iPad dentro? Non lo so. Sto pensando cosa metteci inoltre. No. Guardate che bello che c'è tutto dentro. Angel. Nova. No vabbè. C'è. No. Va. Vabbè. Adoro. Dentro c'è il solito silca gel odiosissimo. Inutilissimo. Aspettate che. C'è sta roba che. Non mi piace. C'è tipo qualcosa di attaccato. Che viene via. Sì. Non vorrei rovinare. Per carità. No. Ma sta venendo via. Vabbè. Ve lo faccio con calma. È un pezzo di carta appiccicato qua. È impercettibile. Però almeno a fastidio. E qui tutto. Plastificato tutto. Che caruccio. Che bello questo. Questo omaggio. Bellissimo. Carino. Dai. No. Non credo proprio che ci sia l'iPad. Perché. Poi si va a stringere. Vabbè. Dopo pulisco questo pizzetto. Qui. Che è attaccato. Tipo carta. Scoccio. Non lo so. Bello. Dai. Caruccio. Ho fatto il mio shopping. Adesso metto tutto qua dentro. Anche questo. Che bello. Ho fatto tutto. E le mie cose così. Tipo profumi. Matite. Cosa. Metto tutto qua. Adoro. Ah. E poi mi hanno dato anche. Questa. Campioncino di Girl Land. Avello. Avello. Royal. Questo che è una crema da giorno. Bene. Top. Adoro. E ho anche la dust bag. Di Mugler. Bene. Mi fa molto piacere. Adesso la rimetto nella sua dust bag. Facciamo una bella cosa. Prendo la dust bag. La metto qua dentro. Che poi dopo. Penso. Sottenerla. Ho buttata. La dust bag. Comunque. Caruccia. Compatta. Ci sono un sacco di cose. Bene. Come vedete. Mi sto prendendo cura. Di me stessa. Al meglio. Ora sono pronta. A cominciare. Proprio bene. Tutte le varie cose cosucce. E qua. Sto buttando la carta. Qua c'è la plastica. Bisogna fare sempre la raccolta differenziata. E bene ragazzi. Io spero che questo video vi sia piaciuto. No vabbè. Io adoro. Non fate caso a queste macchie. Perché non sono reali. Io le vedo. Ma non esistono. Poi magari nel montaggio non ci sono. Vabbè che il montaggio non lo faccio. Perché non ho taglia a fare. Vedo. Vediamo. Ma lascia una sensazione di fresco. Potente. Guardate. Sì. Dà proprio la cosa di là. E labbra riempolpate. Sono proprio stati spesi bene. Questi soldi. Perché. Se sotto ci metto. Tipo anche un rossetto. Con questo. Fa l'effetto. Ancora più grosso. E adorissimo. Bene ragazzi. Questo era il mio shopping. Fatto da Douglas. Spero che vi sia piaciuto. Io vi. E mando un bacione. E ci diamo alla prossima. Ciao.